Vola sull'arine il vento che porta le note, incontro di note Al di là degli spunti dottrinali apologetici, il Bertoni propone anche delle riflessioni più direttamente spirituali per illustrare la fecondità della parola annunciata da Cristo in ordine alla crescita nella fede e nella vita cristiana. Nelle meditazioni tenute al seminario dirà Le sacre scritture ben meditate insinuano non solo le idee giuste delle cose ma anche ben ordinate secondo l'ordine della divina sapienza che le dettò Formano lo spirito, lo sviluppano, lo educano Si impara anzitutto a conoscere Dio, la sua grandezza e ogni potenza Si impara a conoscere i doveri della creatura, cioè la obbedienza al creatore Grazie a tutti! Grazie a tutti!